Avola, paziente Scassamaroni ha posto fatto una verbale dimissione all'ospedale di Maria. Un commento ironico, Scassamaroni, quello ricevuto da un paziente dimesso dal pronto soccorso dell'ospedale di Maria di Avola il quale lì si era regato a causa di alcuni dolori dovuti a una ernia iatale. Il giovane 33enne aveva fatto ricorso alle cure dei sanitari martedì scorso dopo aver accusato dei forti dolori associati con altri sintomi tra cui il vomito che l'avevano parecchio allarmato. Dopo essere stato accolto e aver ricevuto le prime cure è stato dimesso ma con sorpresa ha notato il commento insolito sul documento. Il giovane ha subito denunciato l'accaduto sui social dove la notizia è diventata rapidamente virale. Nel referto malattia ernia iatale nonché note su allergie, farmaci, assunte e sintomi. Il paziente Scassamaroni ha postato le sue dimissioni sui social e sono stato subito virale. La sua compagna nel posto ha scritto questo è quello che succede quando vai al pronto soccorso di aula perché stai male. Secondo indiscrezione il medico che ha fermato il foglio di dimissione si è gestificato così. Sono stressato e sotto pressione.